Gli agenti della divisione anticrimine dell'acquistura di Milano, tra Motta Visconti e altre località della provincia sud della città, hanno sequestrato in base alla normativa antimafia numerosi immobili e capitali per un valore di oltre 2 milioni di euro ad un imprenditore di 43 anni di origine calabrese, organico alla cosca di Indram, Gheta, Gallace e Ruga, attiva nel Catanzarese. La proposta su misura di prevenzione patrimoniale del questore di Milano, Marcello Cardona, è stata accolta dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, preseduta da Fabio Roia. L'affiliato all'Andrangheta, con documentato rito di iniziazione sul territorio calabrese, esponente di spicco della locale di Giussano, con il compito di custodire le armi anche da guerra, nel corso degli anni ha accumulato in Lombardia un ingente patrimonio immobiliare, gestendo una società immobiliare in cui ha impiegato i proventi di verosimile provenienza illecita.